La parzelletta di Geppo E' sabato pomeriggio Siamo davanti ai negozi di Via Tuscolana, no? C'è sta una ragazza che sta guardando la vetrina A un certo punto gli si avvicina un'altra ragazza che fa così Scusa? Mansei, Anna? Quella diceva che fa Oddio, Maria, ciao, bella Oddio, ma dove sei stata tutto sto tempo? E' una cifra che intese vede E quella fa E sono stata a Hollywood A Hollywood, davvero? E che sei stata a fa? E niente, inizialmente ero partita per far un viaggio di piacere E poi una mattina stava a camminare per Hollywood Boulevard, no? Qua la via dove camminano solo i divi E mi si avvicina uno e mi fa Signorina, mi scusi, la stavo guardando E ho notato che hai dei bellissimi occhi Un fantastico portamento Ma lei fa cinema? E io gli faccio, no? Ma quale cinema? Eh, però mi piacerebbe un botto fan film Allora questo gli fa Guardi, io sono un famoso produttore di Hollywood E se lei viene con me Se lei viene con me Le assicuro che farà tanta, tanta strada Ma farà tanta di quella strada Che nel giro di qualche tempo Arriverà anche l'Oscar L'amica sua gli fa Nooo E è arrivato alla fine E certo che è arrivato Oscar! Levate quei dito del naso a mamma La sveglia dei gladiatori Dimensione Suona Roma Il ritmo della capitale